In Val Poschiavo il parere unanime. La ristrutturazione dell'albergo Crocebianca mette tutti d'accordo. Un progetto ben riuscito e coronato da grande successo. L'albergo si presenta in nuova veste, diventando un vero e proprio fiore all'occhiello dal turismo regionale. Dalla reception foyer per l'accoglienza dei clienti, sino alla sala colazioni, gli spazi sono stati ottimizzati e valorizzati. Tutti i locali comunicano tra loro attraverso una sorprendente dinamicità e funzionalità. L'esigenza del committente era quella di rinnovare completamente il piano terreno dell'albergo e la nostra sfida è stata quella di inserire tutti questi spazi con un nuovo concetto e un nuovo design in una struttura esistente cercando di rispettarla il più possibile, inserendo questo susseguirsi di spazi e dando un tema comune che poi troviamo in tutti i locali. Una corsa contro il tempo, quattro mesi di duro lavoro e il dispiego di numerosa manodopera locale, per poter realizzare entro i termini previsti questo importante restyling alla struttura alberghiera. La sfida più ardua da affrontare è stata quella della tempistica. Indubbiamente abbiamo avuto la possibilità di raggiungere questo bel traguardo grazie alla stupenda, bella, grandissima collaborazione di tutte le ditte valigiane che hanno messo, secondo me, anima e cuore. Anima e cuore anche nella scelta dell'arredamento. Pavimenti in serpentino verde spazzolato, tavoli, sedie, pareti e soffitti in legno di castagno. Tutto sotto gli occhi degli attenti visitatori, a corsi numerosi, in occasione della giornata delle porte aperte. Particolare attenzione non solo per l'impiego di manodopera locale, ma anche nella scelta di materiali naturali che rispecchiano la vita alle nostre latitudini. Sono veramente tante, dopo 4 mesi di duro lavoro, di sudore, di polvere, di preoccupazioni, siamo riusciti a terminare i lavori nei termini stabiliti. I clienti sono finora tutti molto molto contenti in una struttura completamente differente. Siamo pienamente soddisfatti. Struttura diversa che nella sua originalità include pure una cantina per la degustazione di vini, collocata al di sotto della sala colazioni e integrata perfettamente nel piano ristorazione. Procediamo sicuramente sempre sul livello di qualità, proponendo sempre ancora un'ottima cucina, un grande peso ai prodotti della Valposchiavo. Cercheremo indubbiamente di proporre delle specialità regionali di altri paesi e cercare sempre di dare qualcosa di nuovo, di stimolante ai clienti. La ristrutturazione dell'albergo Crocebianca crea valore aggiunto ed è proprio un bel biglietto da visita per la Valposchiavo, che punta allo sviluppo di un turismo sostenibile rivolto alla valorizzazione delle risorse locali.